Ciao a tutti e benvenuti in questo video tutorial in questo video vedremo come utilizzare gli occhi che ho messo gratuitamente io nel video precedente che potete scaricarli e come montarli su un video normale diciamo di base come questa allora selezioniamo non prendo tutti i video ma questi due tre video, video base e due occhi diversi che proveremo a fare sia l'occhio destro che sinistro trasciniamo il nostro video base e poi trasciniamo anche gli altri due video riduciamo tenendo premuto maiuscolo possiamo andare qui a vedere la modalità e mettiamo aggiungi per entrambe i video e proviamo a fare la grandezza dei nostri occhi in questo modo qui allora uno dei due occhi possiamo spostarli di qua così facciamo sia uno che l'altro proviamo ad andare verso metà e vediamo che la trasformazione avviene verso la fine perché io ho creato 10 secondi di video per quanto riguarda gli occhi allora vi basta spostare un po' il video così in questo modo facciamo un'anteprima e vediamo se cominciano già a girare prima che finisca il video ok direi che va bene andiamo all'inizio selezioniamo il video base dobbiamo andare su finestra andiamo all'inizio di attivare l'anteprima per chi non lo vedesse qui e anche il tracciatore quindi traccia movimento andiamo qua e premiamo track motion prendiamo e lo trasciniamo in questo modo e selezioniamo una parte dell'occhio in questo modo così allora vogliamo fare sia movimento quindi posizione e rotazione il secondo lo mettiamo sull'altro occhio in questo modo allora se il video è troppo veloce facendo play si rischia di perdere il tracciamento se invece andiamo con questo un frame alla volta allora è più preciso proviamo a fare play vedo che non si è perso quindi va bene anche con play andiamo su edit target quindi modifica target e possiamo scegliere se vogliamo uno o l'altro insomma dei nostri video qua allora premiamo quello predefinito ok che mi prende quello sotto e facciamo applica premiamo asse x e y quindi ok e proviamo a vedere il filmato premiamo qui ram anteprima vediamo che l'occhio segue il nostro occhio quindi l'occhio della sharingan segue il nostro occhio però quando arriviamo verso la fine vediamo che l'occhio si chiude e qui invece noi ce l'abbiamo ancora aperto allora cosa facciamo in questo caso andiamo fin dall'inizio qui e premiamo e creiamo una maschera non occorre essere precisi ma più o meno allora andiamo qui apriamo la maschera e sfocchiamo un po' in questo modo ora vediamo che abbiamo il pacco del mask quindi andiamo shape qui e spostiamoci premendo un frame alla volta e vediamo se nel caso si chiude l'occhio lo andiamo a chiudere anche noi qui vediamo che si perde anche il movimento come vi ho detto se il video è veloce andremo a vedere poi come recuperarlo qui comincia già a spostarsi in questo modo adesso si è chiuso quindi premiamo qui abbassiamo ok andiamo sul punto sotto lo alziamo un po' ok è finito il video andiamo a recuperare invece quel punto di spostamento che abbiamo visto prima quindi andiamo qui trasformazione prendiamo un fotogramma alla volta e vediamo dove salta eccolo qua allora qui facciamo punto di ancoraggio e registriamo un fotogramma andiamo avanti e andiamo sul punto di ancoraggio e lo spostiamo in questo caso più a destra e abbassiamo anche un po' così ok ora dovrebbe andare ora dobbiamo tracciare il movimento per il secondo occhio quindi andiamo sempre su video base traccia movimento quindi ci dice già che è la seconda traccia movimento facciamo sempre rotazione anche allora prendiamo il punto qui e l'altro punto sull'altro occhio premiamo play andiamo modifica target e scegliamo invece in questo caso l'altro occhio premiamo ok e facciamo applica ok come prima vediamo un'anteprima veloce lo stesso dovrete fare anche con l'altro occhio come abbiamo visto nell'occhio alla nostra destra in questo caso questo era l'effetto che si tiene dopo allora un'altra cosa io ho applicato la modalità aggiungi qui in questo caso ma nel caso l'occhio fosse troppo chiaro si applica e magari moltiplica oscurisci inoltre qui il video è troppo chiaro il video dell'occhio invece il nostro video è molto più più sbiadito allora cosa dovremmo fare nel caso fosse così andiamo su effetto prendiamo correzione colore livelli oppure curve o quello che vogliamo noi io prendo livelli e aumentiamo un po' i neri in questo modo facciamo un play ok l'occhio di qua funziona alla perfezione perché l'abbiamo aggiustato in ogni dettaglio lo stesso si farà con l'occhio a sinistra anche questo video è finito grazie ciao alla prossima